è una cosa fisiologica eh sì, fisiologica è come pistano il nome è molto fisiologico e io non lo so lo so so baby i'm in love i really need i need i need i need home in the home in the world Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.